Peter Jacaranda? E chi non lo conosce? Lui è un mito a Central Park. È stato il primo con i rollerbait. Ha avuto il coraggio di provare qualcosa di nuovo. All'inizio lo guardavano tutti strano, ma aveva ragione lui. I rollerbait hanno cambiato il modo di pattinare e lui l'ha capito prima di tutti. Ci ha visto lungo. All'inizio lo guardavano tutti.